Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in Piemonte. Grazie a tutti. Sai che questo è il Passo del Turchino, eh? Però... Betulle Est, parcheggio... Gravellona, Toce, Alessandria, zona vino... Non ci sono i nomi delle gallerie qui, eh? Ovada, sì. Abbiamo fatto il Passo del Turchino. Galleria 720. Siamo arrivati. Siamo arrivati in pianura. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.